C'era una volta una nave, la nave Nina, che andava in mezzo al mare. Su questa nave c'era una bella compagnia di amici molto simpatici. C'era Tom, un bambino, Pat, una bambina, Sipi l'uccellino, Bobby il cane, il gatto. Il gatto mio, Mau, il papà e la mamma di Tom e Pat. Poi c'era anche il gabbiano Ivo che li seguiva per tutto il viaggio. Grazie. 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 Mentre salutano le foucke, arriva una grande nave nera la nave dei cacciatori di uffocche. Questi uomini erano cattivissimi. I uomini volevano catturare tutte le fuoche per farne delle pellicce, ma la nave Nina riesce a distruggere la nave nera. Continua il viaggio, sbarcano in un'isola e trovano una mappa che indicava un tesoro. Grazie a tutti. Così decidono di iniziare la ricerca. Cammina, cammina. A un certo punto arriva il buio e si accampano per la notte. La mattina dopo, mentre cercano di seguire la mappa, una volata di ventola fa volare via. Così decidono di andare avanti loro stesso alla ricerca del tesoro. Ad un certo punto trovano una grande cascata. E avvicinandosi sempre di più si accorgono che dietro l'acqua si nasconde. E' una grotta. E' una grotta. E' una grotta. E' una grotta. per tornare indietro. Ma guarda, 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 dentro la cassa del tesoro c'è anche una pila, così facendosi luce riescono a trovare la via d'uscita. E tornano contenti dalla nave Nina. E' una grotta. 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 Pada. 45 minuti. E' una grotta.